Buon pomeriggio e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Telebari e Radio Bari. Il ministro delle infrastrutture Graziano Del Rio, Gia Bari per il primo forum nazionale sulla portualità e logistica. A confronto rappresentanti istituzionali e operatori del settore non sono mancate le dichiarazioni in merito alla polemica sulla destinazione dei fondi europei per il sud, mentre la Puglia si mostra una regione virtuosa. Il resoconto della giornata da Cristina Ferrini. Il sottosegretario di Vincente e il Presidente del Consiglio hanno garantito alla Puglia le risorse che merita, assolutamente. Non credo che ci sia una incomprensione del percorso. Auspica un immediato chiarimento sulla polemica dei fondi europei per la Puglia, mossa dal governatore Emiliano, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Del Rio, oggi a Bari per il primo forum nazionale sulla portualità. Del Rio parla di risorse sicure per la nostra regione, esempio di buona gestione nell'impiego dei finanziamenti. La sostanza intanto è che i soldi ci sono e che quindi per lo sviluppo della Puglia non verranno a mancare i soldi. La ripartizione per la Puglia è uguale a quella delle altre regioni, gli stessi criteri, non ci sono criteri differenziati da regione a regione. Intanto il governatore Michele Emiliano chiede chiaramente al governo sulla destinazione delle risorse previste dal patto per il sud. Attende fiducioso una risposta alla lettera inviata ieri al Premier Renzi sulla distribuzione dei fondi di sviluppo e di coesione. Allo stesso tempo offre la propria collaborazione istituzionale in vista di uno sviluppo strategico delle infrastrutture pugliesi. Fate dell'arrivare questa lettera, l'abbiamo scritta ieri sera, l'avrà letta stamattina, sono certo che mi risponderà. E il ministro Del Rio ha parlato anche del futuro dei porti pugliesi e degli attuali provvedimenti che servono a renderli più competitivi. Sentiamo le dichiarazioni. Stiamo parlando del piano della portualità della logistica, di tutti i provvedimenti che servono a che cosa? Servono a rendere più competitivi i nostri porti. I porti sono un pezzo importantissimo dell'economia di questo Paese. Dai porti entrano il 70% delle nostre merci ed escono il 50% delle merci per l'export. Sono un pezzo, ripeto, importantissimo anche per l'occupazione, perché le nostre imprese si possono sviluppare solamente se hanno una logistica efficiente. E quindi oggi il punto su questa riforma è che sta già dando diversi effetti di semplificazione di dragaggi, di semplificazione amministrativa, di revisione delle procedure di sdoganamento. E quindi questo tipo di riforme aiutano l'economia a crescere. E ora passiamo alla cronaca. Nascondeva in casa, in un appartamento nella città vecchia, quattro pistole, cinque caricatori e sei cartucce. La scoperta dei finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Bari che hanno arrestato un 21enne. Le armi fatte arrivare clandestinamente in Italia perché non risultano rubate saranno sottoposte ai rilievi scientifici per accertare l'eventuale uso in episodi di criminalità. Ancora cronaca, furto all'AMIU nella notte. I ladri sono entrati nella sede di via Umberto I a Celle del Campo e hanno fatto razzia di attrezzi e veicoli. Rubati nel centro raccolta dell'azienda, due taglia erba e tre automezzi di colore bianco e con il logo dell'azienda. L'allarme è scattato all'alba quando alcuni dipendenti si sono accorti del colpo. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia San Paolo. Pensata per avvicinare l'amministrazione comunale e i cittadini, la giunta territoriale è ormai un lontano ricordo. L'ultima otto mesi fa. Serena Russo L'amministrazione comunale ritiene fondamentale assicurare l'ascolto e la partecipazione dei cittadini le cui esigenze diventano il punto focale dei progetti futuri. È scritto così nella pagina del sito del Comune di Bari dedicata alle giunte territoriali innovativo strumento pensato e voluto dal sindaco Antonio De Caro per avvicinare sempre di più la giunta ai cittadini soprattutto quelli appartenenti alle realtà più periferiche. Le giunte territoriali, si legge ancora, sono previste ogni mese in differenti quartieri della città. Sono aperte alla cittadinanza e rispondono all'obiettivo di ascoltare gli abitanti consentendo ad ognuno di seguire il percorso di governo dell'amministrazione. Belle parole. Peccato però che sono in tanti i cittadini che di queste riunioni non ne hanno visto neanche l'ombra. Basta continuare a leggere, sempre sul sito, per capire come la giunta territoriale sia soltanto un lontano ricordo. L'ultima, in ordine di tempo, il 5 agosto del 2015 nella Scuola Duse a San Girolamo, ben otto mesi fa. Non sorprendono quindi le lamentele dei residenti di Ceglia del Campo, ad esempio, che dicono di sentirsi abbandonati o di Loseto, del Quartierino, di Santa Rita o di Picone. Eppure la giunta territoriale, vera novità del programma di Antonio De Caro, aveva fatto sperare in molti. La notizia di una nuova programmazione il 4 maggio prossimo al villaggio dei lavoratori arriva proprio questa mattina. Dita incrociate. Sradicano il banco, ma provocando una forte esplosione scappano via a tutta velocità a bordo di un'auto nera di grossa cilindrata, probabilmente un Audi, e è accaduto a torre a mare allo sportello automatico della Ubi Banca in via Bari. I ladri, probabilmente in tre, hanno agito intorno alle 4 di questa mattina, ancora da quantificare l'entità dell'aria furtiva. Ci sono voluti 25 anni perché Catino potesse avere una nuova chiesa, una struttura finalmente dignitosa dove poter accogliere i fedeli e creare luoghi di aggregazione. L'intervista al parroco Don Luciano Cassano. È una gioia per tutti, è anche speranza per tutti, perché è un polo di attrazione come una chiesa dove c'è la raccolta di tutti, dai piccoli agli anziani, e diventa veramente una famiglia fatta di famiglie. Questa è la cosa più bella. Come siete riusciti a costruire questa chiesa? Certamente con i fondi dell'8 per mille, il 75% del totale ce l'ha dati l'8 per mille. Poi alcuni benefattori, la gente di Catino, alcuni sponsor, la Banca Popolare di Bari, prima di tutto, e tanta gente di buona volontà. Che risposta c'è stata dagli abitanti di Catino? È una risposta all'inizio un po' titubante perché erano tutti perplessi e nessuno ci credeva. Anzi, voglio dire la verità, manco io ci credevo. Però poi pian piano la gente ha risposto con generosità. E adesso quali sono le attività in programma per la nuova chiesa? Essenzialmente il raccogliere tanti ragazzi, tanti giovani che non sapevano dove andare. Questa è la cosa più importante. E poi vivere in un luogo adatto la vita religiosa, la vita spirituale di ciascuno. Fisata per il prossimo 11 giugno la partenza della seconda edizione della rassegna letteraria Acqua della Puglia, organizzata nell'ambito della manifestazione Libri d'Acqua. Un tour a cui parteciperanno autori di carature nazionale e internazionale che avrà luogo in vari paesi del circondario barese. Si parte a Giovinazzo, passando per Polignano Amari, Santa Venerdì Leuca, Ostuni, Cassano delle Murge e così via fino all'ultima tappa a Bari in ottobre. Alcuni degli ospiti saranno Chiara Gamberali, Gian Antonio Stella, Berasle Poi e Catena Fiorello. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.livridacqua.eu. Più di 20 concerti di musica jazz in 11 comuni del territorio con l'obiettivo di coinvolgere un pubblico eterogeneo possibile. Al via il 1 giugno la 12esima edizione del festival metropolitano Bari in Jets organizzata dall'Associazione Culturale Abusuan in collaborazione con l'Associazione Murattiano. Una manifestazione ormai consolidata come una delle più importanti dell'estate barese con importanti ospiti nazionali, internazionali e talenti locali accuratamente selezionati. Per ulteriori informazioni sul programma il sito di riferimento è www.barinjets.it Tutti in fila per Francesco Renga, il cantautore italiano ieri pomeriggio ha incontrato i suoi fani per il film a copie del suo ultimo lavoro discografico. A due anni dal disco di Platino, Tempo Reale, Renga torna sulla scena musicale italiana con Scriverò il tuo nome anticipato dal singolo Guardami Amore. In tantissimi ieri infila la Feltrinelli di Bari per un autografo, un abbraccio e l'ormai tradizionale selfie. E questa era la nostra ultima notizia, come di consueto vi lasciamo al meteo. In chiusura vi ricordiamo i nostri siti internet. telebari.it, radiobari.net è il nostro indirizzo di posta dedicato in fochioccio del segno di zorro.it. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto e ben ritrovati con Trebimeteo.com Vediamo la situazione per mercoledì, quando una zona depressionaria a carattere freddo interesserà buona parte dell'Europa centro-settentrionale e con occasione per dei piovaschi, fiocchi di neve saranno ancora possibili sulla Scandinavia a quote basse. Ma vediamo la situazione sulla nostra penisola, dove il tempo sarà maggiormente stabile, con maggiori schiarite, salvo qualche nota instabile che si attarderà ancora sulle zone interne centrali, ma soprattutto l'estremo nord-est, qui con anche di temporali. Temperature stazionali e con valori massimi intorno ai 17-21 gradi. E poi passiamo al Sud Italia, perché un po' di variabilità si attarderà soprattutto tra Sicilia e coste tirreniche, comunque qualche piovasco sarà possibile solo sulle zone interne della campagna, meglio invece altrove, con ampi spazi di cielo sereno, per il tempo anche sulla Sardegna, ventilazione per lo più debole, con mari poco mossi al più mossi. Con questo per il meteo è tutto, aggiornamenti come sempre scaricando l'app gratuita di Trebimeteo.com Grazie a tutti!